Al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese sono state presentate due tele che compongono la natura morta del pittore piacentino Felice Boselli, tornate all'antico splendore dopo i restauri, effettuati grazie al progetto Opera Tua, sostenuto da Copa Alleanza 3.0. I due dipinti risalgono al 1720. I due dipinti sono arrivati da noi nel 2006 per l'ascito testamentario della professoressa Capelli, ma avevano bisogno di qualche intervento di pulitura e di restauro. E quindi questa è stata un'occasione meravigliosa per noi di poter accedere ai finanziamenti di fonda Coedicop e dunque finalmente i visitatori potranno vedere dei particolari che prima non si potevano vedere e di apprezzare al meglio questi tocchi di luce che Felice Boselli imprimeva alle figure dei suoi dipinti. Si è trattato del recupero della leggibilità dei quadri di Boselli che erano fortemente compromessi da una sovrammissione di una vernice pigmentata che impediva di vedere i particolari e la tecnica pittorica. Quindi è una restituzione anche delle tecniche esecutive del disegno del pittore. Coppa Alleanza da anni sostiene la cultura attraverso questo progetto che si chiama Opera Tua e che permette di recuperare, come abbiamo visto, queste opere e restituire la cittadinanza. Quindi è un progetto che noi sentiamo molto.